prossimo panettone con gocce di cioccolato da scoprire andiamo a scartare è molto carino impacchettato devo dire flaminini si presenta così mamma mia che odore che emane guardate che spettacolo toccano avete all'assaggio e questi sono gli ingredienti dei magnifici 7 guardate raga via con l'assaggio oh questi magnifici 7 vanno alla grande voglio ma veramente buono raga tanta roba eppure sto panettone si becca veramente un bello 8 e mezzo 9 buono proprio questo mangia del latte che bontà bella